adesso sto registrando sì dunque mi fa una domanda sulla chat di Zoom poi lo invito a usare Slack se possibile perché è più facile da vedere comunque c'è il vostro collega prima di iniziare mi chiede quando si creano i task con il pulsante più se si refrescia la pagina i task non devono rimanere giusto non dobbiamo gestire nessun db esatto questo riguarda il laboratorio fino ad oggi perché? perché non abbiamo nessun posto dove metterli e oggi risolviamo questo problema troveremo un posto non localmente ma sul server per mettere questi dati quindi oggi e nel laboratorio prossimo che sarà l'inizio del Big Lab 2 quindi del secondo gruppo di quattro laboratori da consegnare se lo desiderate cominciamo col far funzionare un piccolo server senza il client e nel secondo laboratorio prossima settimana noi a lezione e poi voi nel laboratorio colleghiamo il client al server per far funzionare diciamo il minimo di collegamento tra client e server e quindi almeno caricare i dati dal server poi faremo funzionare tutte le altre operazioni aggiunte eccetera e quindi queste cose che adesso proviamo ma come dice il vostro collega se ricarichiamo l'applicazione quindi facciamo un reload e sparisce tutto rimarranno perché verranno caricate da uno storage permanente che si troverà sul server ok direi allora che possiamo iniziare e quindi oggi parliamo di come realizzare il server web vi ho già descritto su Slack ieri che avremmo visto in maniera molto rapida la parte iniziale che riguarda HTTP che è il protocollo di comunicazione tra client e server in ambiente web quindi spero che abbiate già dato un'occhiata a queste slide e noi ci concentriamo sul far funzionare il server quindi qui lo scopo è implementare un server web minimo per far funzionare la nostra applicazione quindi lo faremo in JavaScript non perché sia obbligatorio usare JavaScript anche sul server ma perché altrimenti avremmo dovuto usare un secondo linguaggio e il corso diventava più pesante e sostanzialmente per nessun motivo perché il server in realtà può essere programmato in qualsiasi linguaggio usiamo quello che già sappiamo vogliamo servire contenuto statico ma anche avere degli endpoint, delle URL che ci rispondono con un contenuto dinamico che in particolare ci consentono di agire su questi dati che immagazziniamo sul server e lo faremo con quel sistema anzi con la libreria Schoolite 3 che abbiamo già visto in precedenza nel corso che è il sistema più semplice che ci è venuto in mente di nuovo per non introdurre complicazione in una semplice libreria scrive su un file non c'è da lanciare nessun server nessuna cosa complicata e per il server useremo questa libreria express che adesso andiamo a descrivere ok quindi le slide su HTTP le passiamo estremamente rapidamente HTTP è un protocollo richiesta risposta formato testuale se andate a dare un'occhiata a cosa succede vedete cose di questo tipo dovreste già conoscerlo e quindi non ci soffermiamo più di tanto se non sulle cose interessanti quindi c'è l'header e il body sia nella richiesta sia nella risposta seconda del metodo che usiamo che sta poi nella richiesta c'è un metodo, un percorso e va bene la versione HTTP quindi farò una get una post eccetera di un certo URL che decido io e adesso poi ragioniamo su come costruirli nella seconda parte della mattina e il protocollo si occupa di darmi una risposta e di comunicare la richiesta eccetera i metodi che ci interessano sono questi get, add beh in realtà add lo usiamo poco quindi più che altro get, post, put, delete sono tutti metodi HTTP standardizzati forse voi siete abituati a vedere il get forse il post ma esistono anche altri metodi in particolare put e delete che hanno una semantica particolare perché si mappa poi sulle operazioni che dobbiamo andare a fare quindi eventualmente di modifico cancellazione di elementi la risposta ha uno status 200, 404 eccetera quindi sono dei codici a cui è già stato assegnato un significato e lo ricordiamo perché poi li usiamo nel nostro codice per dire che è andato tutto bene o c'è stato un errore un problema e così via e poi eventualmente c'è un body se il metodo lo prevede per esempio riguardo al nuovo oggetto inserito piuttosto che al messaggio di errore questo, il formato di questo body lo stabiliamo noi quindi qui c'è la lista non esaustiva di tutti i codici di errore più importanti sono quelli in grassetto il 200K, il classico quando va tutto bene oppure il 404 not found l'interna server error 500 con le sue varianti che diciamo magari possono essere utili per distinguere in maggior dettaglio diciamo tipo di errore piuttosto che dunque forbidden per esempio quando avremo l'autenticazione il 403 potrebbe esserci utile li trovate facilmente su internet linee di header convogliano informazioni particolari ci sono tanti header definiti in HTTP in particolare l'1.1 che è la versione più utilizzata vabbè host per dire dove ci colleghiamo a questo in dettaglio quello che mi interessa è il content type perché dovremmo impostarlo ci serve perché questo dice qual è il formato dei dati trasportati nel body noi principalmente lavoreremo col JSON per trasportare le informazioni e i dati poi è chiaro che il browser in generale si aspetta HTML quindi quando carichiamo per la prima volta una pagina lui si aspetta HTML ok però noi potremo e dovremo poi impostare questo content type nel momento in cui andiamo a fare delle richieste e spediamo dei dati in JSON perché il server deve sapere che sono in JSON e come lo sa andando ad osservare gli header della richiesta e viceversa il client come sa che sono in JSON andando ad osservare gli header della risposta ok quindi qui trovate i vari metodi HTTP che interessano a noi led forse un po' meno ma get, post, put, delete ognuno dei quali prevede o non prevede un body per esempio il get di solito anzi non prevede non di solito non prevede il body perché dammi cosa corrisponde a questo urlo e non ci sono dati da spedire tranne gli header gli header ci sono sempre vanno avanti e indietro ma il body il contenuto non c'è mentre invece il contenuto ovviamente è obbligatorio nella risposta se la risposta è positiva perché è la pagina l'HTML il JSON eccetera e così via veniamo quindi a Express Express cos'è? è una libreria per node quindi il contesto di esecuzione al di fuori del browser del javascript che ci consente di realizzare un server web in node in realtà ci sono già dei server web in particolare ce n'è uno che si chiama HTTP con molta fantasia che consente di attivare un server web però è un po' scomodo è molto basso livello un po' scomodo da programmare per cui ne usiamo un altro in particolare usiamo questo Express che è il framework una libreria fondamentalmente il solito modo require Express che poi ha tanti diciamo così estensioni utili per fare tante operazioni per esempio la validazione eccetera di cui che proveremo ad utilizzare è molto popolare come vedete è il più utilizzato è facile abbastanza facile intuitivo da programmare e per cui usiamo questo e vi chiediamo obbligatoriamente di usare questo anche per l'esame per le consegne eccetera perché così ovviamente standardizzando il meccanismo è tutto molto più facile come si fa si fa il solito install Express come ben installato School i3 e tutte le altre librerie e poi e poi come si lancia beh dobbiamo scrivere un programmino in JS come abbiamo fatto all'inizio del corso questo programmino adesso vediamo uno scheletro di base e sarà eseguito nel contesto node quindi si lancia con node nome del programma quindi ci siamo portati fuori dall'applicazione React in questo momento non siamo a lanciare un server web contenuto nel in tutto il framework che React ci prepara per provare l'applicazione web siamo al di fuori server web è una cosa che sta al di fuori poi vedremo come collegarli insieme ma più avanti ovviamente andranno fatti parlare insieme quindi come facciamo a far funzionare il server express appunto node index.js o server.js forse nel git nell'esempio l'abbiamo chiamato server server.js quindi lancia un programma è un programma che si metterà in ascolto su una certa porta TCP in ascolto di richieste HTTP non usiamo HTTPS quindi la versione cifrata sicura eccetera non ci interessa e queste cose le lasciamo poi quando una volta si prenderà il programma e si metterà su un sito vero se si vogliono utilizzare perché noi vogliamo vedere debuggare poter vedere tutto quello che succede quanto sta attivo come tutti i server è sempre attivo finché non lo si ferma a meno che non cresci cosa che può capitare perché mano a mano che sviluppiamo magari qualche errore lo facciamo quello sta sempre attivo come tutti i server web Google è sempre acceso Facebook è sempre acceso sono server quindi sono sempre accesi chi li ferma li ferma l'amministratore del computer quindi noi quando decidiamo di fermarlo come si fa per esempio col ctrl c inviando un segnale appunto dicendo attenzione fermati e così via se modificate il file il server va fermato e riavviato questa è un po' la limitazione è una libreria molto semplice express e da sola non fa niente di particolare quindi nel momento in cui modifichiamo una cosa se vogliamo che sia attiva questa modifica dobbiamo fermarlo e rilanciarlo perché rilanciamo un programma e come se cambiate il codice sorgente di un programma che è in esecuzione non ha effetto fino a che non fermate tutto e rilanciate se è scripting quindi python eccetera altrimenti dovete anche compilare e va bene poi rilanciare questa cosa è un po' scomoda per la verità infatti noi veniamo dal mondo dell'applicazione react in cui facciamo la modifica salviamo e tutto si vede immediatamente quindi se ci fosse un qualcosa di simile sarebbe molto comodo per lo sviluppo soprattutto perché una volta che funziona tutto lanciato non dovrebbe mai bloccarsi non dovrebbe mai esserci problemi però nel momento in cui sviluppiamo cambiamo tutti i momenti il contenuto dei file salviamo esiste un pacchetto particolare si chiama node.mon monitor di node che esegue uno script esattamente come farebbe node quindi noi possiamo scrivere node.mon index.js o meglio server.js e fondamentalmente rilancia automaticamente il server o meglio lo script ma dentro lo script c'è il server se rileva che un file è stato modificato quindi noi abbiamo salvato qualcosa come si fa ad utilizzare beh è un pacchetto va installato npm install come sempre node.mon ecco questo è l'unico l'unico caso in cui in questo corso installiamo un pacchetto a livello globale dobbiamo dirlo specificamente perché non è il default meno gista per global adesso poi lo proviamo lo facciamo ed è anche l'unico pacchetto che non è necessario includere nel package json quando consegnate i laboratori l'esame eccetera eccetera perché lo installeremo anche noi a livello globale perché perché in realtà ci serve per tutti i server che andiamo a sviluppare mentre diciamo ogni progetto ha i suoi pacchetti diciamo questo tra l'altro per funzionare bene ha anche bisogno che sia installato in questa maniera per cui è l'unico di cui non dovete preoccuparvi se non è incluso nel package json perché faremo anche noi così perché per funzionare correttamente e farlo funzionare bene ha bisogno di essere installato in questa maniera ok poi andiamo a provarlo nella pratica ok quindi come facciamo a far funzionare server express beh allora dobbiamo scrivere un programma javascript abbiamo detto che un modulo va importato const express require express ok poi creiamo un'applicazione express const app uguale express aperta e chiusa tonda crea un oggetto poi dobbiamo definire delle roots notate bene che queste roots non c'entrano niente con quello che è stato fatto sul client sono url forse sarebbe stato meglio chiamarli url ma in realtà sono url generiche e no scusate express li chiama roots quindi percorsi pagine web e decidiamo che cosa fare in corrispondenza delle url che definiamo noi e poi come ultima cosa dopo averle definite quindi sono metodi che chiamiamo swap che è l'oggetto restituito da express quindi lui in qualche maniera se le ricorda se le aggancia l'ultima cosa che facciamo è app listen porta sulla quale tcp sulla quale stiamo in ascolto e poi una callback vabbè un messaggio per dire ok siamo pronti che è il primo messaggio che ci verrà stampato da questo programma ad ogni root che definiamo quindi ogni url con il metodo http che decidiamo di utilizzare dovremo passare una callback che prende due parametri richiesta e risposta nella richiesta troveremo i parametri della richiesta informazioni del leader dall'url eccetera a seconda di come diremo tra poco nella risposta avremo dei metodi che ci consentono di inviare la risposta quindi il codice di stato 200 404 eccetera eccetera piuttosto che il body quindi il contenuto della risposta agli header eccetera pensa automaticamente express quindi il compito di express del server web è quello di gestire gli header il body ovviamente sta all'utente che programma il server web perché deve deve sostanzialmente decidere che cosa mandare e come processare il contenuto che viene mandato dal client quindi abbiamo questo punto di aggancio del body fondamentalmente di alcune informazioni del header da parte di chi programma quindi il routing su express l'aggancio degli url si fa appunto con app che è l'oggetto ritornato da express il metodo che può essere uno di quei quattro che abbiamo visto prima get post put delete minuscoli perché sono metodi di app sono gli stessi di http ma JavaScript per come è stato scritto express ce li mette a disposizione in minuscolo case sensitive quindi dobbiamo rispettare questa cosa percorso il percorso sul server che è quello che vediamo nella richiesta nell'url html che deve fare il match con ovviamente quello della richiesta http e poi un handler cioè una callback tanto per cambiare che è la callback eseguita quando si fa il match della root cioè arriva una richiesta http express deve decidere dove smistarla avrà si ricorderà tutte le root che noi abbiamo impostato ce ne sarà una che fa il match ok andiamo a chiamare la callback che corrisponde a quella richiesta passandogli e due oggetti richiesta e risposta e vedete qui vabbè abbiamo fatto una cosa semplicissima giusto per completare l'esempio res.send mandiamo indietro una stringa di testo quindi dei byte che corrispondono a una stringa di testo questa è proprio la cosa più semplice che possiamo fare ok quindi dobbiamo imparare a scrivere fondamentalmente queste callbacks perché qui dentro ci sta il codice del server web che gestisce gli url che definiamo ok quindi ci sono nell'oggetto richiesta nell'oggetto risposta alcune proprietà che dobbiamo conoscere bene perché sono molto utilizzate body method params e query sono le più usate quindi qui contiene il body i dati inviati nel body della richiesta deve essere partificato prima di accederci eccetera adesso diciamo due parole su questo aspetto il metodo usato anche se in realtà questo forse è un po' inutile nel senso che se noi abbiamo scritto get diciamo che nell'handler ovviamente centriamo solo se era una richiesta get se noi avessimo lo stesso handle usato per più metodi può tornarci utile però è raro i parametri quindi i parametri della richiesta e vedremo che questo è un altro aspetto importante perché molti url che andiamo a utilizzare saranno dinamici dammi che sono le informazioni relative all'esame col codice xyz ma questo xyz è una parte dinamica nell'url e devo agganciare in qualche maniera mi viene messa a disposizione in punto params quindi non devo essere io che vado a segmentare la stringa eccetera eccetera e query è analogo le due cose sono diciamo leggermente diverse vediamo poi la differenza nel senso che dipende da dove i parametri sono stati messi risposta ecco risposta più che altro abbiamo dei metodi più che delle proprietà vanno chiamati e la cosa più semplice chiude la risposta quindi manda indietro tutto e che è anche incluso in altri metodi di default json prende l'oggetto lo trasforma in json e lo manda quindi chiude con end redirect manda indietro una redirect quindi nobody ma un header di redirect per dire a chi diciamo riceve la risposta di cambiare urla e caricare un altro e send quello che abbiamo visto prima manda una risposta di vario tipo quindi contenuto che verrà inviato come risposta alla richiesta ok quindi questi sono i principali da conoscere adesso li utilizzeremo nei nostri esempi come si fa a generare una risposta vabbè send è la cosa più semplice e automaticamente alla fine chiude end e se voglio una risposta empty cioè senza il body come faccio a dirgli niente non posso mettere stringa vuota devo dire end status status è un metodo che poi può essere concatenato con degli altri in cui posso impostare il codice di risposta lo status tipicamente 200 404 altre cose ok json prende un oggetto passato come parametro lo serializza in json dopo parliamo anche del json in maniera un po' più approfondita comunque diciamo una rappresentazione sotto forma di stringa di un oggetto e vabbè download eventualmente per fare download di file eccetera cioè per fare prompt all'utente di scaricare il file ma diciamo questo non lo utilizziamo così mai redirect ci serve a rediriggere su un altro rule caso mai ne avessimo bisogno di solito non ci capita però per completezza l'abbiamo citato ecco quello che dobbiamo ancora sapere è che Express libreria per gestire un server web è molto estendibile no con cosa con dei cosiddetti middleware cioè delle funzionalità che si mettono tra Express che diciamo riceve la richiesta lato client dal client del client cioè quindi il metodo di richiesta gli header il body e la funzione che poi scriviamo noi la callback che decide cosa fare della richiesta quindi questi middleware sono funzioni che sono chiamati per ogni richiesta e dobbiamo esplicitamente dire ad Express di utilizzarli alcuni li possiamo scrivere noi ma diciamo che i più utilizzati sono già scritti e pronti sotto forma di moduli da caricare da parte di terzi cosa sono questi middleware di fatti questi middleware esportano una funzione che prende guarda caso REC RS quindi due oggetti che prendiamo poi anche noi nelle nostre callback e in più un terzo che è un terzo parametro che è una callback che serve ad attivare la prossima funzione middleware e alla fine attiverà la nostra callback quindi sono tutti messi in catena e diciamo alla fine della funzione scritta da chi ha scritto il middleware ci sarà una chiamata next indipendentemente da cosa sia per continuare la catena dei middleware fino ad arrivare alla nostra callback come facciamo ad inserirlo nel nostro meccanismo che abbiamo visto finora beh in realtà c'è un terzo parametro che possiamo mettere nel metodo quindi get post eccetera tra la nostra callback e il path che identifica l'url che è questa funzione che ci dà il middleware questo lo possiamo fare esplicitamente noi per ogni metodo oppure in express possiamo anche dire di farlo per tutte le root quindi non doverlo specificare ogni volta per ogni root che scriviamo e magari ne scriviamo tante anzi il caso tipico sarà scriverne 5-10 qualcosa di questo tipo per definire tutte le API della nostra applicazione come facciamo a dire di usarle e di usare il middleware per tutte le root bene c'è un metodo su app apposta che si chiama use e gli passiamo la callback che ci viene data dal modulo che ci fornisce il middleware oppure eventualmente possiamo anche dire solo per certi path diciamo senza andarlo a fare specificamente per ognuno va bene ma ok un paio anzi forse tre middleware che ci tornano utilissimi e che utilizzeremo il primo è servire contenuto statico cioè noi attiviamo express con quello che abbiamo visto prima creiamo l'oggetto da express facciamo listen lui non fa niente perché non gli abbiamo detto di fare niente dobbiamo aggiungere delle root se noi abbiamo del contenuto statico quindi dei file che vogliamo servire semplicemente come file html immagini jss css eccetera e se non abbiamo niente dobbiamo scriverci una root per ognuno cosa ovviamente scomoda no? allora cosa facciamo? beh per evitare di fare questa cosa usiamo un middleware un middleware molto semplice che si chiama static che viene fornito direttamente con express che dice tutto ciò che sta in questa cartella servilo così com'è quindi c'è un match diretto tra l'url e il nome del file in quella cartella quindi tutto ciò che sta sotto root come cartella è servito automaticamente non c'è necessità di registrare degli endless su metodo get servito ovviamente col get perché tutti gli altri metodi sono dinamici ci servono delle callback per gestire il contenuto invece get non ha un body e quindi non abbiamo bisogno di gestire niente dobbiamo solo dare il contenuto indietro come risposta quindi se noi scriviamo una cosa tipo app use che ci dice di attivare questo middleware express static public tutto ciò che c'è sotto la cartella public nel nostro progetto sarà servito indietro su questi url adesso noi abbiamo attivato su 3000 sul computer locale quindi su localhost e quindi http localhost 3000 adesso c'è una cartella images dentro c'è un file kit njpeg bene se uno ci fa una richiesta slash images slash kit njpeg si ritroverà come risposta il contenuto dell'immagine e così via ogni tanto abbiamo necessità di mappare il nostro contenuto quindi la cartella la root su un url leggermente diverso perché magari vogliamo avere un prefisso per mantenere un po' di ordine in questi url perché se no lo dobbiamo fare con le cartelle oppure niente come in questo caso quindi potremmo creare un prefisso per esempio slash static che è virtuale non è una cartella sul disco è solo un prefisso nell'url tutto ciò che sta in public viene servito ma solo sotto l'url static ok quindi se io chiamo che so slash hello come qui a sinistra la risposta sarà non c'è indipendentemente da dove sta perché il middleware che decide dove andarlo a prendere se al middleware ho detto che tutto ciò che sia sotto public lo servo ma lo servo solo sotto slash static nell'url deve esserci slash static e poi il nome del file ok ok questo ci servirà poi più avanti nel momento in cui abbiamo del contenuto statico che non ha necessità particolari se non quello di essere messo da qualche parte in una cartella sul server ecco la parte più interessante che quella che andremo a sfruttare questa mattina è quella di andare a processare i parametri della richiesta perché dunque una get può essere semplice come abbiamo visto prima slash get slash hello non ci sono parametri non c'è niente di particolare o c'è il file o non c'è o c'è il contenuto o non c'è la get supporta anche dei parametri cosiddetti url encoded spero che l'abbiate visto quando avete parlato http comunque noi qui rivediamo brevemente questi parametri sono ciò che viene dopo il simbolo punto interrogativo sono standardizzati nel loro formato in un rfc nome uguale valore and nome uguale valore eccetera eccetera numero opzionale e numero scusate come si dice numero a piacere quindi può essercene uno due cento diciamo nel limite della massima lunghezza dell'url ok come facciamo a recuperarli chiaramente potremmo accedere all'url andare a cercare il punto interrogativo come se fosse una stringa andarci a cercare gli uguali quindi la linea commerciale dividere gli uguali eccetera fare tutto noi a mano ovviamente non vogliamo farlo per fortuna express in questo specifico caso per i parametri url encoded sull'url lo fa automaticamente per noi addirittura senza dover installare alcun middleware quindi è già pronto out of the box cioè c'è un partire express e questo ce l'abbiamo come ne andiamo a recuperare bene vi ricordate da prima c'erano questi queste properties particolari ce n'era una query sì query in cui automaticamente se ci sono dei parametri dopo il punto interrogativo express ce li mette a disposizione sotto forma di ulteriori properties di query quindi noi ovviamente dobbiamo sapere come si chiama la chiave che è stata passata come informazione sulla richiesta user pass ovviamente noi che abbiamo scritto l'applicazione lato client e scriviamo il server sappiamo che user l'abbiamo chiamato user e che la pass l'abbiamo chiamata pass adesso non è bello farlo così ma per fare un esempio potrebbe essere dammi che so la lista punto interrogativo ordine 1 uguale nome ordine 2 uguale cognome sono nomi che abbiamo deciso noi e quindi ci ritroviamo qui dentro in query e che sappiamo quali sono perché sono funzionali a far funzionare scusate nella nostra applicazione siamo noi che l'abbiamo decisi altri metodi supportano informazioni tipo parametriche nel body in una post o in una put poi vediamo la differenza ci possono stare informazioni codificate in una qualche maniera se sono nel body devo passare a un middleware particolare o quello url encoded se la codifica è fatta nella stessa maniera supportata anche nella post da http oppure in formato json e c'è un middleware apposta quindi exp.json che ci farà il parsing del json e se tutto è corretto ci dà l'informazione che è stata passata come di nuovo esattamente prima solo che dentro body anziché dentro query e le chiavi sono le chiavi delle proprietà del nostro oggetto noi useremo fondamentalmente il formato json sia per le richieste sia per le risposte useremo questo anche delle query ma solo per le gette e solo per le gette che hanno bisogno di specificare diciamo parametri che non è bene inserire direttamente nell'urlo vediamo poi degli esempi vi ho fatto un esempio per esempio come ordiniamo i dati oppure come filtriamo i dati se li stiamo filtrando ricevendoli dal server e così via ok ancora qualche parola diciamo di carattere generale poi scendiamo nel pratico e proviamo a sviluppare il nostro esempio i percorsi che passiamo al metodo http possono essere o semplici una semplice stringa ed è la cosa più facile slash stringa quindi slash lista oppure dei pattern quindi sotto forma di espressione regolare quindi con tutto quello che ne consegue quindi che so c opzionale oppure b ce ne può essere uno o più di una zero o più di di b eccetera quindi se abbiamo necessità di matchare più di una url con la stessa funzione possiamo farlo o con dei pattern o con va bene l'oggetto regular expression di javascript quello che inizia per slash e finisce per slash oppure possiamo anche passare un array di string o di regular expression insomma un misto delle precedenti il pizzolo diciamo più che altro per completezza tendenzialmente avremmo degli url fissi perché la parte che può essere dinamica in realtà la gestiremo come forma di parametro come sottoforma di parametro cioè come in questo caso quindi un path percorso un url può contenere uno o più segmenti di tipo parametrico cioè variabili quindi dammi di tutti gli user di tutti gli utenti l'utente numero 15 allora qui ci può essere scritto slash 15 come slash 18 come slash 1 come slash 100.000 no? per fortuna abbiamo la possibilità come abbiamo fatto sul client di scrivere una parte dell'url in forma parametrica la l'abbiamo fatto sulle sue route interne che non c'entrano niente con quelle del server sono due cose diverse che non si parlano tra loro semplicemente condividono la stessa sintassi cioè entrambi hanno avuto l'idea di usare i due punti all'inizio per specificare che quello che segue è un parametro quindi il nome non è da matchare con quello che arriva ma è il nome da utilizzare poi quando andiamo a recuperare l'informazione ops scusate ho fatto clic voglio girare quindi i due punti il nome lo scegliamo noi e sarà collegato ad un identificativo che poi ci verrà a disposizione in rec params quindi se noi scriviamo una route di questo tipo un url parametrico di questo tipo quando noi abbiamo il diciamo fatto il match dentro la callback possiamo andare a recuperare le informazioni con rec params punto userid punto bookid perché ne abbiamo messi due potevamo mettere anche solo uno avremmo solo avuto userid quindi cosa fa questa questa callback giusto per concludere il discorso di questa slide manda indietro un oggetto quindi in realtà una stringa che è fondamentalmente l'oggetto params e quindi si vedrà che c'è come risposta userid 2.34 bookid 8.9 8.9 insomma quello che è stato passato come richiesta semplice maniera per vedere se le cose funzionano possiamo anche specificare va bene una regular expression per esempio dire che questa questo parametro è formato solo che so da numeri se volessimo fare ma non siamo obbligati potrebbe anche essere stringhe numeri eccetera il match viene fatto cercando di matchare tutta la stringa quindi dovrà iniziare per slash user slash e poi ciò che resta fino a books sarà interpretato come parametro e così via ok un altro middleware utile e che quindi vogliamo utilizzare ovviamente è il logging perché di default express non scrive niente cioè fa le operazioni richieste ma non scrive niente non stampa niente a video siccome noi stiamo sviluppando ovviamente ci fa piacere sapere capire che cosa sta succedendo perché è più facile trovare gli errori e così via e allora attiviamo un middleware di logging che non fa nient'altro che scriverci l'url richiesto ogni volta che arriva una nuova richiesta dove? sul terminale dove abbiamo lanciato il server vi consegniamo di usare questo pacchetto si chiama morgan npm install morgan tanto per cambiare cost morgan require morgan e poi lo attiviamo app use morgan ecco prende un parametro per dirgli il livello di logging noi usiamo dev che è quello che log ha più di tutti così diciamo per lo sviluppo è utile altrimenti avrà un solo default ulteriore middleware che può esserci utile poi arriviamo a provare tutto in pratica un validatore perché? perché nel momento in cui riceviamo delle informazioni dal client sotto forma di parti di url di parametri della query di body e così via quindi nel body della richiesta per i metodi post put eccetera dobbiamo sempre 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 validare ciò che ci arriva chiunque può mandarci qualsiasi cosa i dati non arrivano solo dalla nostra applicazione fareò vedere dopo che anche solo per fare il test possiamo mandare quello che vogliamo al server ok perché perché è così sono dati che arrivano dal mondo chiunque può collegarsi al nostro server e mandare quello che vuole allora noi dobbiamo controllare che ciò che arriva come parametro come query come body sia nella forma che ci aspettiamo quindi che so perché lo dobbiamo fare per per evitare che l'applicazione finisca in uno stato in cui non siamo più coerenti con quello che ci aspettiamo se noi richiediamo che l'utente scriva un email oppure che la password abbia almeno cinque caratteri così via se noi non facciamo questa validazione finirà che a un certo punto sarà qualcuno che per sbaglio apposta in qualche altro modo non ci interessa come ci manderà qualcosa non coerente con la nostra applicazione noi ci aspettiamo che i nostri dati abbiano certe caratteristiche e magari non programmiamo correttamente il comportamento nel caso che non ce li abbiano e il risultato è che poi la nostra applicazione non funziona più va in crash fa così in attese e così via quindi sempre sempre validare l'input che arriva dal esterno e ho detto esterno non utente non è solo il nostro utente certo il nostro utente sarà il caso tipico ma arriva da fuori non sappiamo chi ci ha messo le mani ok come si fa beh diciamo che ci sono dei modi per farlo appunto possiamo farlo noi a mano se vogliamo quindi ci mettiamo qui prendiamo dunque questa era una post che mi arriva nel body quindi prendiamo il body andiamo a cercare c'è username sì ok allora c'è username prendiamo la stringa cerchiamo una qualche funzionalità o ce la scriviamo noi per vedere se è una username una email se è un email ok tutto bene altrimenti rispondiamo errore ok stessa cosa per la lunghezza minima che forse è un po' più semplice oppure ci aspettiamo solo cifre che corrispondono cioè una stringa fatta di numeri quindi valori che corrispondono ai numeri sì ci aspettiamo un numero compreso tra che se è il voto tra 18 e 31 inclusi sì controlliamo queste cose eccetera ovviamente questo codice è importante ma noioso da scrivere per cui per questo hanno fatto dei pacchetti che ci aiutano in queste operazioni noi vi consigliamo questo express validator che è uno dei tanti però abbastanza semplice da usare flessibile e come si usa? bene è possibile usare un secondo parametro addizionale nella app post app put e questi tipo di metodi che è un array quindi post put capiranno che un array non è una callback quindi non è un middleware e possiamo andare a chiamare delle funzioni la cosa interessante è che poi se chiamiamo queste funzioni ci sono diciamo una serie di cose predefinite per esempio appunto email ent eccetera un po' di tutto possiamo poi cliccare quando ho finito lo faccio per andare a vedere cosa c'è a disposizione e poi possiamo semplicemente chiedere al risultato della validazione se è tutto ok quindi se è empty l'array degli errori ok vuol dire che tutto è stato validato secondo le nostre richieste e quindi possiamo andare a rispondere altrimenti diremo 422 che adesso non mi ricordo cosa voglia dire cerchiamo su internet ma qualcosa tipo c'è stato un errore e volendo nel body possiamo dare una risposta noi se vediamo dei messaggi gli daremo sempre il formato json perché? perché abbiamo deciso di usare json perché è la cosa che si adatta di più alle applicazioni di tipo single page application che vediamo in questo corso ed è anche abbastanza utilizzata in pratica dunque c'è una domanda per una validazione della data è possibile usare sempre le funzioni dei js sì diciamo che a un certo punto se vuoi trasformare la data in un oggetto usare dei js è scelto di usare dei js ma qui c'è qualcosa che opera prima a livello di stringa proviamo andare a vedere clicchiamo ne ho cliccato sul link in basso a destra e vedete che è pieno di metodi che ci consentono di validare secondo me se cerco date validate date aperta tonda is date ok quindi format gli diamo un formato e ci aspettiamo una stringa che abbia quel formato quindi vabbè poi ci sono varie opzioni strict mode probabilmente per dire se il mese deve essere di 2 anche se una sola cifra eccetera quindi deve esserci 05 non 5 tutte cose di questo tipo i delimitatori eccetera però diciamo è bene passare per queste funzioni perché sono tendenzialmente robuste a qualsiasi tipo di input e sono come dire state pensate appunto esplicitamente per far validazione quindi sono più flessibili di quello che può fare un dayjs o un'altra libreria per le date un'altra domanda quella array non ha nulla a che fare con il middleware giusto direi proprio di sì giusto dove sono le slide ecco sì non è un middleware sono delle funzioni che vengono richiamate per poter poi fornirci una risposta nel nostro body e da averla a disposizione quindi e tra l'altro non avrebbe neanche tanto senso che fosse un middleware perché per ogni richiesta ci saranno dei parametri diversi e quindi fondamentalmente devo avere un array di verifiche di validazione differente ok altri middleware interessanti prego beh in realtà Morgan l'abbiamo già visto ci sarà poi Passport su cui spenderemo una lezione per fare l'autenticazione course per il cross resource cross origin resource sharing e e fondamentalmente vabbè ci sono quelli di validazione se trovate qualcosa interessante se ne avete bisogno potete andare a dare un'occhiata però ce ne sono tanti noi fondamentalmente quelli di cui abbiamo bisogno ne abbiamo mostrati c'è una domanda non mi è chiara una cosa il middleware viene eseguito prima che venga analizzata la richiesta sì esatto sì esattamente esattamente quindi è qualcosa che viene eseguito dunque dove è andato a finire sì nel mezzo prima della nostra callback la nostra callback è l'ultima cosa che viene eseguita ok ed ha senso così perché il middleware fa delle operazioni preparatorie a quello che dobbiamo poi fare noi come diciamo operazione relativa alla root che stiamo implementando quindi per esempio ci interpreta il contenuto del body ci scompatta dalle informazioni della query e così via oppure fa logging quindi se semplicemente come il Morgan dice vabbè è arrivata questa richiesta la stampo poi fai quello che vuoi ma io intanto l'ho stampata ok quindi io direi che andiamo a vedere qualcosa in pratica perché altrimenti il discorso rimane estremamente teorico quindi noi andiamo a prendere quello che c'è sul diciamo sul nostro sito web anzi sul git hub sapete che usiamo sempre il git hub quindi trovate un react scores server che adesso è incompleto perché tutti stiamo facendo lezioni siamo in contemporanea col corso l'altro corso in italiano il corso in inglese quindi trovate un progetto semplicissimo in cui abbiamo due file js dao e server io l'ho già scaricato l'ho già preparato per non perdere tempo e l'ho caricato in viso studio quindi come ho fatto l'ho scaricato in una cartella ho fatto open folder nostro server react score server ok e l'ho già caricato cosa trovate appunto due file js dao diciamo sono delle funzioni che abbiamo già preparato che accedono al database ma queste dovreste già essere in grado di scriverle non l'abbiamo già provato a scrivere in un laboratorio quando abbiamo fatto esperimenti di programmazione javascript tra l'altro con le promise eccetera abbiamo scritto questo genere di funzioni qui è stato tutto isolato in un file in cui esportiamo una serie di funzioni quindi diciamo exports punto che è la maniera per esportare diciamo e non doverlo fare alla fine alcune funzioni e da un modulo e niente ci scriviamo delle normali query che sono select asterisco from course quindi ci sarà una tabella course db all se va tutto bene ok creiamo degli oggetti ce li ritorniamo niente di particolare dopo ci torniamo sopra quindi volevo solo dirvi che questo file in cui ci sono le funzionalità che abbiamo già diciamo preparato per non dover ci mettere lì a scrivere anche questa roba che alla fine sono poi delle query in sql niente di particolare a noi interessa il file server in cui c'è proprio il minimo il minimo che è use strict consdao require dao ok e ci importiamo il nostro modulo e quindi ci mette a disposizione poi list courses get courses eccetera eccetera scriviamo ciò che serve a noi quindi facciamo partire in server web quindi a noi serve express quindi scusate che faccio sempre un po' di copia in colla ma perché il tempo è limitato e poi cerchiamo anche di fare non troppi errori quindi salvo constexpress require express poi init express quindi diciamo che scriviamo in questa maniera quindi abbiamo detto che per fare per usare express dobbiamo creare l'oggetto lo chiamiamo app potremmo chiamare pippo ma cerchiamo di mantenere sempre un po' di ordine e poi cosa serve e poi serve solo farlo partire quindi in realtà se noi facciamo quello che facevamo sulle slide app listen porta qui l'ho messo la 3001 se no la mettete fissa è questione di gusti e poi una callback che semplicemente ci scrive sono attivo ok quindi ho già posto salvo ok adesso devo farlo partire posso farlo partire non farà nulla perché non c'è nessuna root quindi non fa nulla però almeno lo vedo partire terminale nuovo terminale ovviamente adesso non ci funziona perché non abbiamo installato express però come facciamo a farlo partire node server il nostro file non è cosa che abbiamo messo sulle slide index ma è server server.js ovviamente non parte perché module node found express npm install express niente di particolare tra l'altro è più veloce della parte react perché qui installiamo poca roba diciamo così mentre react si porta dietro come avevamo detto 270 megabyte di roba ok vediamo se ci manca ancora qualcosa proviamo node è partito ok come vedete non termina non termina questo è un server web non termina non termina non termina mai se non quando schiacciamo ctrl c io adesso schiaccio ctrl c e lui si ferma quindi lo rilancio prendiamo il browser web cosa scriviamo localhost 3000 il solito ok non non ci da niente ho messo 3000 si o 3001 a 3001 vabbè 3001 non ci da niente perché non ci nessuno mi ascolta 3001 questo è un messaggio di default di express va bene ok usiamo 3001 e non 3000 lo capiremo le prossime volte perché su 3000 c'è già react abbiamo due server da far parlare insieme lo faremo poi prossimamente però se usiamo 3001 siamo già posti per dopo non c'è scritto niente perché? perché non c'è logging no? però io ho detto ma sarebbe bene usare logging soprattutto in sviluppo quindi importiamo il modulo vi ho suggerito morgan lo usiamo quindi use morgan dev quindi copy quindi dopo qui setup middleware app use morgan dev salvo ecco notate che ho salvato non è successo niente questo è scomodo perché adesso cosa devo fare devo fare ctrl c e rilanciarlo va bene morgan ci manca morgan install morgan quindi non è come react che automaticamente salva e ricarica salvate voi ma ricarica lui non serve ecco stavolta è partito localhost risposta 3001 ricarico stessa risposta perché non è che c'è qualcuno che mi serve la richiesta però stavolta almeno ho logging risposta 404 codice di errore not found va bene ok ho messo il logging a questo punto facciamo funzionare qualcosa anzi no scusate prima prima facciamo funzionare bene il server cioè in realtà funziona ma avevamo detto sulle slide che per comodità di sviluppo volevamo usare quel sistema che è quello che automaticamente ci ricarica ecco npm install meno g nodmon ok quindi mi installo nodmon questo è l'unico ripeto l'unico pacchetto installo a livello globale quindi credo mi richiederà anche i permessi ecco vabbè adesso trattino è diverso fate attenzione quando fate incolla delle slide delle slide ok deve essere installato in srlib quindi ho bisogno del permesso del super utente quindi farò sudo è l'unico pacchetto per cui facciamo questa cosa essendo globale va in una cartella condivisa tra tutti di sistema quindi deve essere super utente per poterlo fare ok vabbè qualche faccenda ma diciamo che fondamentalmente ha avuto successo a questo punto anziché lanciare il server con nod lo lancio con nodmon ok che cosa succede succede che tutte le volte che io farò una modifica quindi facciamo 3002 poi rimetto a posto salvo adesso salvo vedete che lui ha capito che c'è il server file server.js che si è stato modificato e ha fatto ripartire rimetto a posto prima di fare pasticce ok quindi un po' più comodo è semplicemente una comodità se no ctrl c riparte va bene lo stesso non è obbligatorio per l'esame anche perché l'esame tanto ce lo gestiamo noi il server per cui non è un problema vostro quindi se anche voi non avete mai usato il nodmon non ce lo usiamo noi tanto è uguale come scrivere nod server semplicemente riparte ma l'esame noi fondamentalmente non abbiamo neanche bisogno perché noi ci aspettiamo che il vostro server parta e funzioni e non abbia mai da essere rilanciato se deve essere rilanciato vuol dire che è cresciato quindi c'è qualcosa che non va ok scriviamo una root la più facile la più semplice ok se avete dubbi o domande io leggo sempre su slack però diciamo stiamo facendo delle cose abbastanza semplici lavoreremo solo sulla parte server oggi non apriamo l'applicazione react quindi continuiamo nella direzione di quell'esempio che noi manteniamo a lezione che quindi è quello della tabella dei corsi voti eccetera creiamo la parte server per quell'applicazione poi la prossima volta la agganciamo dal client che è abbastanza sofisticato già di per sé ci richiede tre ore ok quindi questa istruzione listen sarà alla fine perché dopo questa diciamo noi lanciamo il server quindi non possiamo più aggiungere altre cose no quindi tutto ciò che dobbiamo fare lo dobbiamo fare qui dentro allora scriviamo una API diciamo che proviamo a scriverci una prima API e poi giusto per far vedere qualcosa che funziona in Express e poi e poi direi che vabbè l'ora è abbastanza presto vediamo se magari ne scriviamo una seconda poi ragioniamo su come impostare l'API perché prima di mettersi a scrivere codice bisogna sempre mettersi a ragionare su che cosa è meglio fare metà del della programmazione è ragionare sull'architettura del programma e poi il resto è farlo funzionare e debaggarlo se abbiamo messo degli errori come spesso capita quindi io voglio scrivere una root per questo questo url slash API slash courses ok adesso lo prendiamo così per buono poteva essere slash courses poteva essere corsi in italiano poteva essere quello che voglio l'ho scelto uno mi tengo diciamo allineato con l'esempio che ho così cerco di introdurre pochi errori e non sprechiamo tempo però tanto vedete che ogni tanto capita mancano i moduli mancano le cose quindi per mantenere il tutto ordinato io vi consiglio di avere tutte le root del server che danno delle informazioni immagazzinano delle informazioni quindi nel nostro caso gestiscono i corsi gli esami eccetera sotto un prefisso comune slash API è il classico però qualcosa così non si confondono poi quando avremo anche il server React che fornisce l'applicazione React quindi l'index JS AppJS e tutte le altre risorse c'è un percorso a parte per l'API e siamo in grado di mappare questo server molto più facilmente se non abbiamo il prefisso diventa un po' più complicato ok come scriviamo una root dunque questa è una root get la più semplice possibile le get sono le più facili sono quelle che tra l'altro vengono fatte dal browser quando scriviamo sulla barra dell'url come abbiamo fatto prima cannot get quindi il browser ha inviato una get facciamolo pure andiamo inspect network quindi network io ricarico lei ha mandato una get metodo get domain qui vedete non so se c'è il row questo è il nether di risposta row ma il nether di richiesta row non vabbè non me li fa vedere ok quindi lui ha messo in realtà non ha fatto una richiesta 1.1 ha messo non ha messo nessun header probabilmente va bene comunque la risposta che appunto in formato grezzo è poi questa qui a destra è riga di stato cioè http stato e stato leggibile quindi stringa 404 e poi una serie di header che non ci interessa una parte ecco come vi dicevo il content type ovviamente di default è text html ok e e poi e poi ci ha messo dovrebbe aver messo un body quindi il body è questo è scritto html il browser è stato così gentile che se anche non era html era testo puro me l'ha fatto vedere lo stesso ok quindi è una richiesta get a slash ma noi potevamo scrivere a slash qualsiasi cosa slash apcourses che è già lì perché io l'avevo già provato adesso non succede niente perché non c'è niente sul lato server quindi nella richiesta lui ha no header ha inviato apcourses però noi sul server non l'abbiamo ancora fatto vediamo di farlo abbiamo detto app metodo quindi get qui possiamo scrivere get post put delete basta ho gli altri metodi usa made eccetera però non c'è da niente con i metodi http get slash api slash courses sistema più semplice stringa senza espressione regolare niente insomma ah no ho saltato una una virgola ok e adesso e adesso la callback rec res iniziano tutte così eh freccia graffe di solito apriamo le graffe perché c'è da scrivere un po' di roba e e decidiamo che cosa fare ehm diciamo res 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 cosa andiamo a rispondere facciamo send ehm tutto bene eh giusto per iniziare mando una stringa ho salvato avete visto che qui sotto è ripartito risalvo così si rivede eh quindi facciamo lo faccio specificamente così vedete resta nella registrazione e qui sotto è ripartito browser proviamo bene api courses oh è uscito quello che ho messo quindi qualcosa funziona eh cos'è sto favicon vabbè sono fatti del browser diciamo così quest'iconina qui che lui di default va a cercare non c'era non l'ha trovata non ce l'ha messa fatti loro courses è però quella che ci interessa ehm quindi request eh è quella che abbiamo fatto qui sull'url response ok con la risposta row e testo quindi non html vabbè avrei potuto essere più gentile a mandare un html eh headers response eh come prima eh mi ha dato eh con type text html ecco mi dice content length ma si aggiusta il browser su queste cose noi non abbiamo da fare niente di particolare ok quindi siamo in grado di mandare indietro qualcosa a fronte di una richiesta get del browser su un certo url ap courses ok adesso mandiamo qualcosa di più interessante perché abbiamo mandato una stringa eh ci piacerebbe mandare l'informazione che c'è courses eh mandarla nel database andarcela a recuperare e mandarla indietro anche se non avremo modo di visualizzare nella nostra applicazione ma diciamo vediamo cosa esce fuori nel browser quando fa questa richiesta verso il server ehm quindi eh andiamo a vedere in DAOJS per questo l'abbiamo già preparato c'è un scusate c'è un ecco un list course è proprio quello che ci serve va a fare select asterisco from course nel db exam SQLite che abbiamo già messo qui a disposizione eh quindi adesso non vi apro vabbè potremmo aprire l'explorer del SQLite e andare a vedere cosa c'è nella tabella ma tanto diciamo facciamo la select e ci recuperano l'informazione eh leggiamoci il codice così intanto ripassiamo un minimo cosa è stato fatto oramai un po' di settimane fa dunque l'is course è una funzione che non prende parametri e ritorna una promise resolve reject che in caso di errore vabbè farà reject e in caso di successo farà resolve courses come otteniamo courses andiamo a fare una query quindi una stringa passata come db all db è l'oggetto che diciamo ha aperto database che corrisponde al database aperto nessun parametro e anche a questo passiamo una callback error rows se error è settato vuol dire c'è stato un errore noi facciamo reject e sarà un problema di chi ci ha chiamato andarcelo a gestire e dopo lo facciamo altrimenti rows contiene la risposta della query righe di risposta di una select cosa ne facciamo diciamo che se vi ricordate come funziona schoolite3 per ogni riga ci da un oggetto e noi cosa ne facciamo lo trasformiamo nell'oggetto che vogliamo noi in realtà qui la cosa è abbastanza semplice perché i campi della tabella scusate le colonne della tabella si chiamano come i campi dell'oggetto che vorremmo quindi lo facciamo più che altro per esercizio però magari potrebbe succedere che noi in javascript vogliamo un oggetto che ha dei campi il cui nome è diverso dal nome della colonna questo che trovate qui a destra il nome della colonna e questo che trovate qui a sinistra lo decidiamo noi cosa facciamo prendiamo rows map quindi per ogni elemento dell'array callback prende l'elemento dell'array e ci ritorna ciò che mettiamo qui e qui è un oggetto abbiamo aperto la graffa un oggetto con tre campi codice nome e cfu e poi e poi abbiamo fatto una promise e allora tanto vale ritornarlo come valore della promise nel momento in cui la promise si chiude con successo resolve no? quindi quando la promise è fulfilled ok quindi sappiamo che ci arriverà sotto forma di promise risolta e il metodo si chiama list courses quindi andiamo a prendercelo ok quindi allora noi faremo c'è list courses su cosa lo chiamiamo? abbiamo importato prima il DAO no? DAO list courses e cosa prende cosa ci dà come risposta? ci dà i corsi no? quindi const courses uguale occhio che questo questa è una promise quindi non possiamo fare così cioè possiamo provare vediamo cosa capita secondo me capiterà un pasticcio quindi forces e no non funziona eh response non c'è niente ok va bene però perché abbiamo fatto una send però è vuoto ed s giusto così per curiosità content 2 ci avrà mandato una a capo non so cosa ci ha mandato va bene non ci interessa comunque perché non funziona? perché è una promise perché dobbiamo aspettare che la promise sia risolta come si fa ad aspettare che una promise sia risolta? così intanto ripassiamo ok come si fa per cui si ricorda con await ok await è una possibilità await cost courses ecco send questo è già qualcosa eh qual è il problema? await is only valid in async functions bene per fortuna possiamo passare una callback asincrona ok ok ho salvato e lui è ripartito vediamo cosa succede adesso stiamo facendo proprio passo passo poi ovviamente non è che andrete avanti così eh beh è già qualcosa ci ha mandato come risposta un qualche cosa eh dunque qui eh eh header di risposta content type application json è stato così furbo da capire che era un json questo non è scontato eh nelle richieste che arriveranno bisognerà dirglielo esplicitamente invece qui per fortuna se l'hai già capito lui eh è una cosa un po' sconsigliabile da fare come l'abbiamo fatta adesso eh adesso l'aggiustiamo ehm però diciamo che siamo stati fortunati e cos'è un json è un json è una stringa di testo però siamo riusciti a far funzionare la la nostra callback io vi consiglio quando volete mandare indietro un json di usare il metodo apposta eh quindi non send che spedisce qualsiasi cosa che viene passato ma json ok il punto è che se mettiamo json no non abbiamo bisogno del middleware è già incluso sì forse sì e allora solo per i dati che arrivano va bene vediamo un po' sì ok abbiamo la risposta e la risposta è di nuovo la stessa cosa di prima però questa volta abbiamo detto esplicitamente occhio trasformalo in json eh quindi mandami indietro in json purtroppo funziona anche con la send è brutto dal punto di vista didattico mi sarebbe piaciuto che non funzionasse però questo è il modo corretto di dare la risposta ehm ok ehm rest json courses ecco ecco una cosa perché lo vedo così nel browser perché il browser è gentile diciamo così nel senso che mi fa la cortesia di farmi vedere la cosa in json se è in json perché? perché il json è diciamo è il è un formato molto diffuso e quindi Firefox è così gentile da farlo è vero che sì il vostro collega ci dice sulla chat come mai da 304 come status eh not modified perché in realtà vedete tra l'altro perché lui si ricorda eh che eh diciamo il risultato è uguale a prima perché eh Express fa tante altre cose che di cui non abbiamo parlato noi proviamo a fermarlo a rilanciarlo e se non basta rilanciamo anche Firefox eh faccio lo shift reload con lo shift quindi ricarica tutto e ci arriva il 200 get ok che è quello che ci aspettiamo eh diciamo che 304 not modified eh vabbè Express si mette in mezzo e diciamo ci fa questa cosa quindi bisogna stare un attimo all'occhio sul sul fatto che potremmo non ricevere sempre 200 però il contenuto è valido lo stesso eh se vogliamo avere il 200 sempre e comunque perché adesso credo che se lo rifacciamo vedete il 304 abbiamo il modo no quindi vogliamo farlo rest status 200 noi lo sappiamo che è giusto mettere 200 no perché 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 sappiamo che non c'è stato un errore dire la verità un po' non vero perché perché in realtà non ho ancora testato gli errori però diciamo no lui continua a mettersi in mezzo ho fatto ho fatto shift reload se invece facciamo reload vabbè express si continua a mettersi in mezzo questo probabilmente è un comportamento disabilitabile a qualche parte è troppo brutto dal punto di vista didattico ma diciamo la realtà è così va bene ok gestiamo l'errore gestiamo l'errore come facciamo a gestire un errore prima di tutto c'è qualcuno che ci dà un errore abbiamo detto sì sì perché list courses può darci una reject come facciamo a gestire la reject abbiamo voluto farlo con la wait il nostro collega ci ha suggerito la wait che va benissimo sia ben inteso per gestire un errore sulla wait abbiamo un unico modo che è il try catch quindi try catch catch qui ci mettiamo una variabile che vogliamo noi error va anche bene error insomma quello che ci pare se c'è stato un errore potremmo dire res status ecco qui dobbiamo mettercelo esplicitamente 500 500 qualcosa 500 internal error non vogliamo essere più espliciti va bene end e terminiamo la risposta quindi senza fare send che altrimenti ci vorrebbe spedire qualcosa end non prende niente e dice di terminare ok ovviamente adesso non succede niente no perché non c'è l'errore facciamo un errore facciamo setter fuori un errore come facciamo facciamo una serie su una tabella che non esiste course 2 ok tabella non esiste non vi apro l'sqlite browser se no diciamo non finiamo più però ecco non arriva più niente ho fatto una select che non ha risposta perché non funziona non esiste la tabella risposta 500 internal server error headers gli headers raw sono punto 500 internal server error e non c'è un body ho messo end non c'è un body risposta vuota punto fine ok e questo andrà gestito da parte dell'applicazione adesso noi abbiamo fatto un errore eclatante questo è un errore di programmazione quindi risalvo metto a posto su questo non ci si può fare niente no però potrebbe essere che so database temporaneamente non disponibile potrebbe esserci database bloccato potrebbe essere non riesco a collegarmi al database motivi vari adesso su un file non è che non riesco a collegarmi perché è un file però nel contesto reale potrebbe capitare di tutto arrivano tutti quanti a prenotarsi per il vaccino e ci sono 10.000 richieste al secondo da gestire sul server e non ce la fa il server del database e qualcuno dà errore e riproverà ok oppure c'è stato un problema interno per qualche motivo c'è un'incorrenza nel database prima o poi qualcuno la risolverà però intanto non riusciamo a estrarre i dati più che mandare un errore non possiamo fare ok direi che possiamo proviamo ancora a fare l'API degli esami poi così facciamo pausa ragioniamo sull'API e facciamo delle API più complicate con la post anzi parametriche poi con la post quindi paste fatemi fare un po' di copia in colla così è uguale a prima no API questo è exams c'è una seconda tabella nel database exams async rec res try cost exam weigh day eccetera eccetera è scritto uguale a prima no non c'è niente di diverso cosa cambia che fa vado a prendere list exams list exams che è qui sotto cosa fa anziché fare essere il tastierisco prende tre campi vabbè fa più o meno la stessa cosa no niente di particolare db all se c'è error error eccetera sono tutte scritte con le promise ok quindi ho salvato vero sì proviamola e poi ci facciamo una piccola modifica exams anche exams funziona benissimo è la prima volta che la carico mi ha fatto la cortesia metto 200 che così è bello didatticamente ok volevo farvi vedere come qual è l'alternativa perché il vostro collega prima ha detto scriviamo la wait va bene va bene non c'è niente di male nel scrivere la wait volevo però farvi vedere che non è l'unica cosa che si può fare quindi io adesso cambio un po' dao list exams ritornano a promise giusto come si gestiscono le promise l'alternativa la wait è punto then punto then benissimo ecco bravo chi ha scritto punto then prende una callback la callback prende il valore della promise e deve farne qualcosa quindi diciamo prendiamo dunque qui era gli exams quindi exams secondo schermo fa sempre pasticce ok exams e ne facciamo qualcosa abbiamo a disposizione l'oggetto res json di nuovo exams punto noi abbiamo chiuso qui il codice nel senso che di per sé senza la gestione dell'errore è finito troviamo salvo ricarico quindi ricarico faccio con lo shift così ci viene il 200 funziona punto then mi verrebbe da dire è quasi più facile però potete usare quello che volete sarebbe sempre bene gestire gli errori come si gestisce la promise rejected catch è la cosa più intuitiva catch e cosa prendiamo questa volta sempre un parametro e stavolta è l'errore cosa ne facciamo di nuovo a quello che facciamo prima possiamo tranquillamente prendere e fare copia e incolla se la vogliamo fare uguale a prima quindi salva se vogliamo mettere il punto virgola se no fa lo stesso ma penso che ormai siate esperti di punto virgola reload 200 ok facciamo andare a male anche questa richiesta quindi list exams con lo stesso sistema di prima list exams from exam 2 è la cosa più semplice per far fallire la query oppure potete cambiare il nome di una colonna insomma facciamo la richiesta 500 exams perché stacc 3 non c'è response vuoto headers risposta row 500 internal server r abbiamo fatto in un modo o nell'altro liberi di fare come volete vi faccio vedere un ultimo pezzettino nel senso che se vogliamo anche se mandiamo indietro un 500 il body non deve essere necessariamente vuoto anzi mi verrebbe da dire sarebbe meglio dire che il problema si è verificato quindi json visto che vogliamo sempre parlare json aperta graffa non so dobbiamo decidere un formato noi e questa volta lo dobbiamo proprio decidere noi nella nostra applicazione noi forniremo un esempio se volete tenervi l'esempio tenetevi l'esempio se no fate come volete io vi consiglio un oggetto in cui non so mettete una stringa un array di stringa che dice cosa si è verificato ecco che problema si è verificato dbr non è molto informativo ma è sempre meglio di un niente no ok proviamo ok json db error anche se c'è il 500 non è un problema questo json vabbè grezzo così adesso poi nella seconda parte parliamo di json e di api e andiamo a sviluppare qualcosa in più interessante cosa noi facciamo dove esce questo errore dipende da cosa abbiamo fatto sull'applicazione client quindi sul lato client noi quando faremo questa richiesta sull'applicazione agganceremo la risposta se la risposta è un json con i corsi con gli esami eccetera e caricheremo da qualche parte vedremo dove nello stato eccetera e l'applicazione prenderà i dati e visualizzerà i dati che ha ricevuto se rileva che c'è stato un errore per esempio il codice di ritorno è cioè lo stato è 500 500 qualcosa c'è un errore l'applicazione deciderà cosa fare come in tutti i casi di errore nel caso in cui avevamo un problema col form c'è qualcuno ha fatto giustamente un alert un qualcosa che scrive attenzione c'è un errore nel form e qui attenzione il server non è in grado di fornirci i dati in questo momento non lo so scrivete quello che volete oppure direttamente quello che ricevete db error facendo un po' attenzione a quello che si riceve però sì insomma diciamo qualcosa che sia significativo per l'utente ok noi in questo momento non abbiamo il client e quindi il nostro client è direttamente il browser stiamo provando direttamente l'API così e quindi diciamo più che andare a vedere il body della risposta non possiamo fare la prossima volta la facciamo funzionare bene ok quindi metto solo più a posto lasciandolo nella registrazione la query così l'abbiamo pronta per dopo e quindi funziona e direi che a questo punto se non avete domande faccio un po' di pausa facciamo un po' di pausa quindi io come sempre fermo zoom lo riattivo subito dopo quindi un giro di 30 secondi è riattivo potete ricollegarvi e facciamo i nostri 5 minuti di pausa parliamo di API di JSON anzi e di API e poi finiamo questo esercizio per quanto riusciamo nel tempo che abbiamo a disposizione ok non vedo domande quindi io farei che fare la pausa 5 minuti di pausa come sempre poi aumentano un pochino e ci vediamo tra 30 secondi il tempo di riavviare il zoom ok allora faccio il pausa un po' di riavviare Grazie a tutti